per te mamma e cosa rappresenta? cosa rappresenta il libro? una parte della tua vita che materialmente non l'ho condiviso e che invece mi era tutta presente prima ancora che tu facessi il libro avana, novembre 14, 1992 i walk, walk all over avana i walk for hours i never get tired of walking everything interests me it all seems new and all at the same time oh sai veni, veni tobleo oh sai veni, veni toble oh sai veni, veni tobleo oh sai veni, veni tobleo oh sai i yoko ca jambo oh sai veni, veni tobleo oh sai veni, veni tobleo perché se mattina o qualche giorno noi despertiamo con la notizia che la URSS si integrò ancora in queste circunstanze Cuba e la Revoluzione Cubana seguiranno luttando e seguiranno resistendo all I know is that I want to probe the historical process the country is going through my life is becoming more deeply intertwined with that of the island my marriage, the baby on the way will create an even more intimate relationship with Cuba on January 6, 2006 I was told that I could no longer teach my photographic workshops in Cuba on July 4, 2006 my family and I left the island Grazie a tutti